Buonasera amici del Tornante, siamo con Rachele Somaschini. Buonasera a tutti. Rachele, sei impegnata in vari campionati, sia su strada che in pista, in quale ti senti più a tuo agio? Io direi che in salita sicuramente mi trovo molto più a mio agio, soprattutto perché in pista serve l'esperienza e saper bene le piste, mentre io quest'anno sto praticamente scoprendo quasi tutte le piste, anzi tutte tranne Monza, quindi sono neofita della pista, ma mi è piaciuta. Però per ora vado meglio in salita, diciamo. Va bene, qual è la tua gara preferita in salita finora? Ad ora direi che Sarnano è proprio l'ideale di cronoscalata che mi piace di più, perché non è troppo lunga ed è abbastanza tecnica ed è una delle tipologie che preferisco. Rachele, dove è nata la tua passione per le corse? Ho vissuto in un ambiente molto vicino ai motori in generale, perché mio papà è sempre stato appassionato e ha corso anche lui nel 99-2000, poi purtroppo per problemi lavorativi non ho avuto il tempo di proseguire. Quindi porterò avanti io il cognome Somaschini nell'ambito delle corse. Quindi ho sempre avuto questa passione, soltanto che avendo una malattia genetica i miei genitori non se la sono sentiti di farmi iniziare dal kart e quindi ho iniziato, quando ho avuto 18 anni ho detto ok, è il momento di fare la licenza, la patente e quant'altro e così ho iniziato, ho fatto la mia prima cronoscalata che è stata la Trento Bondone, ma prima avevo fatto una gara storica in pista. Ok, siamo a Gubbio. Le tue impressioni sulla gara, sul tracciato, la città? Allora, l'ambiente. Partiamo dall'ambiente che praticamente mi ha accolto come una famiglia. Sono tutti veramente disponibilissimi e mi danno tutto ciò di cui ho bisogno. Quindi qualunque cosa io chieda sono pronti a darmelo. Infatti mi sono posizionata alle verifiche con gli adesivi della fondazione. Sono comunque, come vedete, in un posto abbastanza visibile proprio per facilitare il lavoro dei volontari. Il tracciato mi piace, nonostante sia un po' corto. Ora che mi concentro è praticamente finita la gara, però adesso sono riuscita ad entrare nella gara un pochino prima. Il problema è il caldo, purtroppo, che soffro tanto questo aspetto. Parlaci della campagna Correre per un respiro e del tuo impegno sulla malattia della fibrosicistica. Correre per un respiro è un progetto che ho ideato dopo che l'anno scorso, avendo fatto solo tre gare, nelle tre gare in cui ci sono stata ho avuto un riscontro sia mediatico sia a livello di raccolta fondi molto importante. Quindi ho deciso perché non proseguire e non fare un progetto un pochino più costruito. Così, con l'appoggio totale della fondazione Ricerca Fibrosicistica, sono riuscita a mettere insieme un po' tutto quello che è necessario, che serve per fare raccolta fondi. Quindi ho un camion che contiene gazebi, magliette, gadget, tutto quello che c'è da portarsi ad ogni gara. Poi contatto tutti i volontari perché la fondazione è fatta di volontari e quindi sono 150 delegazioni in tutta Italia. E queste 150 delegazioni, quando le contatto, sono sempre prontissime a darmi una mano. Infatti si danno addirittura i turni qua a Gubbio, talmente sono affezionati. E mi danno una mano perché io ovviamente corro e mia mamma da sola non riuscirebbe a far tutto. vengono e mi danno una mano a cercare di sensibilizzare e di raccogliere fondi. E quindi questo progetto è legato a... è proprio una campagna di sensibilizzazione che trovate anche sul sito che è fibrosicisticaricerca.it e proseguirà per il CVM. In pista ci proviamo ma non c'è tutta la gente che c'è alle salite e soprattutto guardano più altri aspetti. Guardano solo le macchine ma l'aspetto charity è un pochino... tra il suono della pista non riesce a fare molta presa. Però noi ci proviamo lo stesso, siamo sempre presenti. Quale messaggio vuoi mandare ai tuoi tifosi? Quello che vorrei far passare è che ovviamente io cerco di dare sempre il massimo e continuerò a farlo finché ho le forze. Ovviamente però vorrei far capire che il mio messaggio primario... anzi io ho iniziato a correre per cercare di dare anche risalto alla fondazione perché ho iniziato un po' per gioco dicendo metto un adesivino e poi è diventata tutta la livra della macchina. E vorrei proprio far passare questo messaggio che ok l'ambito sportivo è tutto io darò sempre il massimo, lo assicuro però vorrei che non si soffermassero solo su questo ma che guardassero un po' oltre. Rachele ti ringraziamo, noi? E tutti gli amici del Tornante, alla prossima! Grazie a voi, siete davvero preziosi per avermi fatto spiegare tutto questo. Grazie!